La famosa espressione enigmatica di Mona Lisa nasce soprattutto dagli occhi e dal sorriso. Quel sorriso che Vasari definisce così affascinante da apparire più divino che umano, Alberto Angela. Ma parli di Mona Lisa, andiamo al Louvre? No, rimaniamo in Italia e anzi in Emilia-Rumagna! Ciao, io sono Monica. E io sono Carlotta. E questo è Sempre in Viaggio. Il podcast che ti fa viaggiare mentre fai colazione. Buongiorno a tutti! Quindi, oggi parliamo di Mona Lisa, ma non andiamo in Francia. Ah, e dove andiamo allora, scusa? Andiamo in questa bellissima valle della provincia di Piacenza che si chiama Val Trebbia, ovviamente dal nome del fiume Trebbia. Sì, ma quindi la Mona Lisa, scusami, l'abbiamo uccisata, ma a cosa c'entra? Adesso ti spiego tutto. Questa valle, che è stata considerata una delle valli più belle al mondo da Ernest Hemingway, è stata anche una delle valli preferite di Leonardo da Vinci. Wow! E quindi? Chi è che ha dipinto la gioconda? Leonardo da Vinci. Ma non solo. Tu sai che la gioconda è ammantata da un segreto? Quale sarebbe questo segreto, scusa? Tanti dicono che il suo sorriso è un enigma, ma c'è un'altra cosa che ancora non è ben chiara. E sai qual è? Esattamente chi fosse questa persona. A parte quello. Ok, va bene. In realtà... Dove si trovasse questa persona. In realtà non dove si trovasse, ma quanto lo sfondo che è disegnato proprio dietro la Mona Lisa. E indovina un po', lo sfondo è... Non dirmi che è la Val Trebbia. Brava! Allora, non c'è sicurezza di questa cosa, pare che lo sfondo che sta alle spalle della Mona Lisa sia proprio la Val Trebbia, disegnata tra l'altro con il Ponte di Bobbio. Tu sai qualcosa del Ponte di Bobbio? No, assolutamente no. Ma come? Il Ponte di Bobbio, che è anche chiamato Ponte del Diavolo, ti dice qualcosa Ponte del Diavolo? No. No, ok. Allora, intanto premettiamo che moltissimi ponti che sono con delle forme strane vengono chiamati Ponte del Diavolo. Questo in particolare è stato chiamato Ponte del Diavolo perché c'è una leggenda che narra che è stato costruito con l'aiuto del diavolo attraverso un inganno che un personaggio bobbiese, chiamiamolo così, ma bobbiese di addizione, fece al diavolo, cioè fece un accordo per cui il diavolo doveva aiutarlo a costruire questo ponte e in cambio questo personaggio bobbiese, che dopo ti dico chi è, gli regalava delle anime. Wow, un accordo vantaggioso. Un accordo vantaggioso sì, perché quando il ponte fu costruito tutto in una notte, perché il diavolo chiamò a rapporto tutti i suoi diavoletti e li fece mettere con la schiena, cioè praticamente ogni schiena faceva un archetto e li trasformò praticamente negli archi del ponte di Bobbio e quindi essendo che i diavoletti erano tutti diversi, le volte del ponte sono tutte diverse. Solo che il diavolo non sapeva che questo personaggio che aveva fatto l'accordo con lui era stato furbo e infatti non appena il ponte fu terminato, il primo a passare sul ponte doveva essere quello che avrebbe dato l'anima al diavolo. E chi fu? Chi fu? Un cane. Un cane. Quindi praticamente questo personaggio che aveva fatto l'accordo con il diavolo vendette l'anima di un cane al diavolo, il quale si arrabbiò tantissimo, ma proprio tantissimo. Mi arrabbierei anch'io, mi hai promesso delle cose. Eh, vabbè, comunque insomma, pare che lo sfondo della Gioconda sia proprio la Valtrebbia con il suo ponte, con Bobbio da una parte, Bobbio è il paesino dove c'è proprio il ponte, e con le anse del fiume. Il fiume ha una particolarità, scommetto che non la sai? No, non la so. Ah, non sai niente della Valtrebbia? Eh no, è stato un viaggio che hai fatto senza di me, non la so. È comunque un viaggio che io ti consiglio assolutamente di fare. La caratteristica del fiume è il colore dell'acqua, che è azzurrissimo, e le sue anse, però lo sai cosa sono le anse di un fiume? Certo che lo so. Cosa sono? Le sponde del fiume. Le anse? Sì. No! Cosa sono? Sono le curve che il fiume fa. Le anse sono state proposte per diventare patrimonio dell'UNESCO. Wow. E sono patrimonio dell'UNESCO? No, ancora direi di no. Però sono state proposte per questo. Esatto. Ma ti sembra un bel posto così? Certo che mi sembra un bel posto, ma cos'è che posso fare oltre a vedere il paesino di Bobbio e visitare questo ponte del diavolo? Beh, intanto Bobbio è carinissima. Ok. E siccome ci troviamo praticamente al confine fra l'Emilia Romagna, la Toscana, la Liguria e la Lombardia, lì confluiscono un po' le tradizioni anche gastronomiche di tutte queste quattro regioni. Quindi si mangia? Beh, si mangia sì, si mangia. Allora, ci sono un sacco di negozietti dentro a Bobbio dove si vendono ad esempio salumi tipicamente emigliani, ma ci sono un sacco di forni che vendono? Che vendono? Se siamo al confine con la Liguria, cosa vendono? La focaccia. Esatto. Brava, Carlotta, si sveglia? Sul cibo sì, sono sveglia. Ok, quindi si può mangiare oppure si può visitare quello che c'è a Bobbio. E mangiare. E mangiare quello che c'è a Bobbio. A Bobbio, ad esempio, c'è una specialità che non trovi da nessun'altra parte dell'Emilia Romagna. Ti dico come si chiama? Lo so come si chiama. Ah, davvero? Sono, per caso, i maccheroni di Bobbio. Sono i maccheroni di Bobbio, esattamente. È una pasta fatta al ferro che viene condita con uno stracotto. Chiedimi se sono buoni. Sono buoni, eh. Sono buoni. Sono veramente buonissimi. Un'altra curiosità sulla Valtrebbia e sul paese di Bobbio, ad esempio, è che il paese di Bobbio è fiorito perché c'era questo personaggio che aveva fatto l'accordo col che era stato mandato lì dalla Curia, parliamo del Medioevo, forse anche prima, perché era un posto che si poteva colonizzare a livello di religione, parliamo, no? e questo personaggio si chiama San Colombano. San Colombano ha fatto una cosa fighissima, fighissima. Vediamo se indovini. Allora, intanto da dove veniva? Da un posto che a te piace tantissimo. È all'estero? Esatto. È dall'Irlanda. Brava! Quindi lui si era fatto a piedi, perché una volta non c'erano gli autobus, negli aerei, si era fatto a piedi dall'Irlanda fino a Bobbio. Un bello sbatti comunque. Un po' sì, un bello sbatti. E qui aveva portato una cosa che è tipica dell'Irlanda. Vabbè, se parliamo in Irlanda sarà birra. Esatto. Sembra che la birra in Italia sia arrivata proprio con questo San Colombano. Per fortuna allora che è arrivato San Colombano. Eh sì, grazie sempre San Colombano di essere venuto a trovarci, insomma. Eh, cioè per la sua birra. Esatto. Comunque, vabbè, San Colombano era un personaggio molto importante. Qui è stata costruita tutta la sua abbazia. Tra l'altro nel museo è contenuto un pezzo che tutti, tutti, tutti studiamo all'elementare. Cioè è un pezzo che proprio io credo che nessuno non sappia di cosa si può trattare di questa cosa qua. E io, vabbè, studiare all'elementare si studia in realtà se vai a fare catechismo. E parliamo delle nozze di Cana. Le nozze di Cana sono un racconto che viene fatto in relazione alla religione cristiana e si dice che una delle anfore che furono usate nel matrimonio, nelle nozze di Cana, sia proprio quella che è contenuta nel museo diocesano di Bobbio. Ma quindi trasforma l'acqua in vino? Praticamente sì. Miracolo. Miracolissimo. Allora, questo era il miracolo che veniva raccontato. Ovviamente dentro alle anfore c'era l'acqua che doveva essere trasformata in vino e una delle due anfore si trova proprio lì. Vabbè, ci sono un sacco di altri pezzi molto interessanti. Però questa cosa, insomma, di San Colombano mi sembra che sia piuttosto interessante. Sì, sì, sì. Ha portato un sacco di cose. Esatto, ha portato un sacco di cose. Quindi, insomma, siamo partite dalla Gioconda per arrivare a parlare di un sacco di altre cose perché siccome Leonardo da Vinci passò una parte del suo tempo proprio nella Val Trebbia, proprio nella zona di Bobbio, pare che lo sfondo che è sul dipinto della Gioconda sia proprio la Val Trebbia. Una cosa incredibile. Pensate che storia. Infatti. Per oggi finiamo qui. Sinceramente sulla Val Trebbia vai delle altre cose da raccontarti. Ma magari ce le racconti nella prossima puntata. Magari le racconti nella prossima puntata. Quindi per oggi salutiamo tutti. Sì, dai. Ciao! Ciao! Alla prossima!